Chi sono i rettiliani? Esistono veramente e sono presenti tra noi. Influenzano le nostre vite economiche, sociali, private, ma ci tengono davvero sotto schiavitù? E soprattutto come possiamo riconoscerli? Che metodo utilizzano per tenerci soggiogati? Ebbene, restate con me, perché chi non conosce questo argomento ne resterà stupito. Il rettiliano ha un corpo proprio, ma ha la capacità di cambiare aspetto e quindi di nascondersi tra noi esseri umani, prendendo le nostre sembianze. Un essere mutaforma in pratica. E sono però anche rettiliani che non hanno un corpo fisico e sono denominati rettiliani dimensionali o extradimensionali. Questo tipo di rettiliano può passare da una dimensione ad un'altra senza troppi problemi e sono appunto per questo molto difficili da individuare. Questo tipo di rettiliano però ha la capacità di parassitare una persona umana, cioè di entrare all'interno del corpo di un umano e rimanere lì per quanto tempo gli pare. Le persone che hanno un parassita rettiliano sono facilmente riconoscibili, perché il rettiliano dimensionale o extradimensionale fa fatica a rimanere celato dietro il volto di un umano. Così capita che alle volte possano comparire delle chiazze di tipo verdastro. Inoltre anche l'occhio cambia. L'iride da tonda diventa verticale. Inoltre si umetterebbe le labbra continuamente, un po' come fanno tutti i serpenti, che fanno settare in aria la lingua per verificare eventuali pericoli. Sembra che i rettiliani ricoprano i maggiori posti di potere. Sarebbero infatti loro che decidono delle nostre vite. Tutto questo in segreto, dandoci l'illusione di una parvenza di libertà, facendoci credere di essere noi a scegliere. Ma perché ci fanno questo? In pratica veniamo usati dai rettiliani come noi usiamo gli animali d'allevamento. A differenza nostra però, questi predatori si alimentano delle nostre basse energie. Quindi provocano in noi esseri umani inconsapevoli sentimenti come avidità, codardia, aggressività, violenza, eccetera. L'energia generata da questi sentimenti sarebbe il loro cibo prediletto. Infatti non amano qualità vibrazionali della consapevolezza, dell'amore, dell'armonia, dell'equilibrio, della pace, della sobrietà. Se tutto ciò fosse vero e dovessimo quindi combattere i rettiliani, ricorrendo sicuramente all'odio, all'aggressione, alla violenza, ma sicuramente la partita sarebbe già persa. Ma se affrontassimo questa sfida senza paura, ma con l'amore, trasformeremmo questo mondo e il controllo rettiliano sicuramente sparirebbe. Personalmente mi piace credere che le guerre si possano combattere con il sentimento dell'amore puro. Ma voi, voi cosa ne pensate? Credete a questa teoria? Credete nei rettiliani? Credete che si nutrano delle nostre basse energie e che siano loro a decidere delle nostre scelte e di tutta la nostra vita? Come sempre fatemelo sapere qui sotto, nei commenti. Mi interessa molto conoscere il vostro parere. Grazie.